Il 5 luglio ricorrerà alla festa dell'indipendenza del Venezuela. Assicuro la mia preghiera per questa cara nazione ed esprimo la mia vicinanza alle famiglie che hanno perso i loro figli nelle manifestazioni di piazza. Faccio appello affinché si ponga fine alla violenza e si trovi una soluzione pacifica e democratica alla crisi. Nostra signora di Coromoto interceda per il Venezuela.